286 società sportive di tutta Italia hanno deciso di partecipare alla terza edizione della festa del cross, campionato nazionale di corsa campestre che Gubbio ha il vanto di ospitare per l'Umbria in questo fine settimana, un evento che annualmente cambia regione e che porterà a Gubbio ed in tantissimi comuni limitrofi qualcosa come 4.000 persone. L'associazione Gubbio Runners del presidente Marco Busto cura gli aspetti logistici ed organizzativi della gara con il comune che ha dato un importante sostegno perché la macchina organizzativa è davvero importante per numeri straordinari. 2.100 atleti con al seguito staff e autisti. Si stima che arriveranno a Gubbio nei giorni delle gare qualcosa come 4.000 persone. Quasi 1.500 saranno accolti in hotel, gli altri in bed and breakfast e agriturismi, ma ovviamente l'accoglienza e Gubbina non è sufficiente. Ecco che allora sono state prenotate strutture a Pietralunga, Umbertire, Montone, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Scheggia e anche Ponte San Giovanni. L'organizzazione ha previsto navette per accogliere e riaccompagnare i partecipanti alla stazione di Fossato di Vico, all'aeroporto di Sant'Egidio ed anche da quello romano di Fiumicino. Ed ancora, individuata la zona dove usualmente stazione il circo per gli autobus e i pulmini, previsti una quarantina di mezzi. Già da oggi è arrivati i tir poi della RAI per la diretta di domenica su RAI Sport 7.1 e 7.2. In città sabato e domenica anche tantissimi giornalisti delle maggiori testate sportive d'Italia come la Gazzetta dello Sport o il Corriere dello Sport. Sabato mattino la cerimonia, in centro storico, dal pomeriggio le gare con l'ultima batteria che partirà. Alle 14 di domenica il tutto ovviamente al Teatro Romano e proprio lì sarà allestito anche un bar. Dunque Gubbio che si prepara per la prima volta ad un evento podistico di rilevanza nazionale che avrà ricadute significative sul fronte economico, turistico e di promozione territoriale per la gioia del settore ricettivo di almeno altri sette comuni. Esempio perfetto di quella che tutti sanno essere la tendenza da battere e fare usuale. Grandi eventi di settore che richiamino l'interesse degli appassionati ed intercettino l'attenzione dei media nazionali e perché no internazionali. E la Gubbio Runners promette ancora grandi eventi.